buon natale ma soprattutto buon natale a beverly hills agli amici di rb casting rb casting andate a vedere natale a beverly hills buon natale e felice anno nuovo buon natale a tutti gli amici di rb casting e andate a vedere questo bel film e mandiamo un saluto a roberto bicarati ciao ciao roberto ciao